ciao ciao a tutti un bacio a tutti beh mazza che scrocco godato benvenuti in questo nuovo video in menù settimanale che tra l'altro era un video che avevo già girato anni fa ma lo ripropongo più che volentieri perché se può essere di spunto per qualcuna può essere anche di spunto per me se sotto mi commentate e mi scrivete il vostro perché potrebbe essere anche uno scambio no io a me piace molto comunque quando c'è uno scambio nei commenti credo che sia importante un modo anche per conoscerci un po tutti tranquillamente serenamente e far diventare il canale tipo un salotto dove uno c'è chiacchiera si confronta ecco allora io qui ho già scritto pranzo e cena in questa griglia perché volevo vedere io sono mancina quindi io faccio molta fatica a scrivere dritto ecco io per scrivere devo tenere il foglio un attimino piegato ma così facendo poi esce dall'inquadratura e mi dispiace quindi ho fatto una prova per vedere se così facendo fosse giusta la scrittura e fa pena quindi non fate caso non fate caso a come io adesso scrivo perché proprio sto troppo dritta ecco troppo dritta innanzitutto non vedo quello che scrivo mi devo spostare io e in più non sono abituata a scrivere così sono abituata a scrivere storto cioè tengo storto per vedere quello che scrivo ecco tutto qua però adesso questo mi esce dall'inquadratura dopo niente allora per fare il menù settimanale dobbiamo tenere in considerazione una cosa la verdura io la verdura rispetto a quella che poi segno qui ne compro sempre un po di più perché comunque non si sa mai se io ho preventivato un'insalata può essere che l'insalata non lo so non gli gusta o a michele o a giulia quindi faccio un po di verdura lessata ecco quindi io mi tengo l'insalata se mangia la verdura lessata per dire quindi tengo sempre un po di scorta di verdura questo tengo a precisarlo nel menù ovviamente non c'è scritta la colazione nel menù non c'è scritto la frutta questo è a parte ovviamente questo bisogna aver detto voi perché io a volte faccio crostate ciambelloni e come avete visto a volte nei video acquisto anche biscotti merendine però non con molte farciture ecco rimango abbastanza bassa diciamo nei toni tendo sempre io a fare qualcosina strudel di mele con la pasta sfoglia oppure che ne so come ho detto il ciambellone oppure però mi fa comodo anche avere questi biscotti ecco i biscotti e cose quindi colazioni e merende non ci sono qui ecco quindi gli yogurt tutte queste cose qui e questa è un'altra cosa io parlo del menù settimanale per quanto riguarda il pranzo e la cena tenendo conto che nel frigorifero ci deve essere sempre un po più di verdura allora ovviamente carne pesce questo lo dovete vedere voi io faccio adesso un menù proprio base base ecco base base dopo ognuno ovviamente se lo studia come più fa comodo perché i gusti non sono tutti uguali posso uno può essere vegetariano vegano quindi o comunque non piacere il pesce e allora e dopo il menù cambia però io vedo che i menù che stilo per casa li stilo insieme a michele e giulia perché almeno c'è uno scambio no per vedere a chi piace cosa a chi piace chi quindi lo facciamo seduti al tavolino e un'altra cosa non butto mai quando questa settimana è finita il foglio io non lo butto mai ma lo numero perché poi la settimana successiva quando io vado a fare un altro menù cerco di variare dalla settimana precedente perché sennò poi tutti i menù risultano uguali no e la settimana successiva ancora cioè cerco praticamente di fare quattro tabelle diverse in modo tale che quando poi è passato il mese ricomincio dalla prima e non si capisce che si sta mangiando sempre le stesse cose per intenderci allora vediamo questo questa 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 settimana come ho pensato di fare il pranzo e la cena il lunedì considerato sempre che la domenica diciamo se fa un pasto un po' più tranquillo perché siamo tutti in casa io lunedì tendo a fare il riso questo l'avevo detto anche nel video precedente io tendo sempre a fare il riso ora bianco o al sugo questo lo sapete voi però io diciamo incomincio la settimana sempre con il riso di solitamente il lunedì in generale rimango sempre leggera ecco perché comunque nel fine settimana si è mangiato un attimino di più quindi se a pranzo ho fatto il riso ad esempio la sera posso fare i toast allora il toast a casa mia trova sempre tutti d'accordo il toast trova sempre tutti d'accordo perché sia a me che a michele e giulia piace molto poi io come lo faccio lo preparo e non lo metto nella tostiera lo metto sotto al forno e sulla fettina che rimane proprio faccia a vista sulla sulla teglia ci faccio una spendellata di uovo quindi da quella doratura che comunque poi piace e te lo tosta un attimino in un altro modo piuttosto che avere la fettina nuda senza niente quindi diciamo che il toast piace ecco poi non metto i formaggi dentro non su tutti quindi comunque vario parecchio il contenuto quindi il toste oppure se uno non gli piace il toste può fare la mozzarella in carrozza o qualsiasi altra cosa una piadina cioè io ho messo toste però uno può decidere il lunedì tendo a rimanere un attimino un po più leggero martedì io faccio passato di verdura passato di verdura chi non non gli piace il passato di verdura può lasciarlo proprio minestrone pezzi interi in casa se io faccio minestrone io lo mangio michele e giulia no quindi faccio passato di verdura che dopo uno ci mette dentro le fette biscottate integrali oppure non ci mette niente oppure ci mette la minestrina oppure ci mette il formaggino oppure ci mette il parmigiano oppure insomma il passato di verdura ecco la sera posso decidere tranquillamente di fare una fettina di carne più e più possono essere patate o può essere insalata o può essere verdura o può essere qualsiasi cosa ecco importante che ci sia la fettina che io durante la settimana la mangio due volte non la mangio di più intervallo carne e pesce mercoledì il mercoledì semplicemente allora questo questo menu diciamo è molto semplice ecco l'ho studiato molto semplice per far andare d'accordo un po tutti no tutte le persone che guardano il video perché troppo troppo pesante non mi sembrava il caso né io lo faccio solitamente perché sennò diventa una bottata non è un menu è una bottata a maggior ragione ho cercato di fare un menu molto semplice per andare incontro un po a tutte le tasche no perché non tutti i mesi sono uguali lo sappiamo perfettamente ci può essere un mese con più bollette un mese con meno bollette cioè cerco un attimino di andare incontro quindi mercoledì mercoledì posso fare spaghetti col sugo oppure in bianco senza nessun problema e la sera bastoncini di pesce oppure pesce in generale mettiamo pesce quindi può essere qualsiasi cosa vi piace con anche qui insalata verdura in generale patate lesse pomodori quello quello che più vi piace allora io a pranzo tendo sempre a fare un piatto ma per motivi di lavoro di mici oppure perché giulia quando torna da scuola diciamo mettersi lì a fare primo secondo contorno frutta poi la pesantisce non riesce con lo studio quindi tendo a fare un piatto unico ovviamente se dopo uno vuole il secondo secondo c'è sempre un formaggio un insaccato qualsiasi altra cosa uno può anche dovessi decidere di fare che ne so la mattina impastare una pizza faccio una focaccia e uno poi come secondo fa diciamo la focaccia dicola mortadella ecco quindi comunque c'è sempre però tendo solitamente a fare un primo e si tende a mangiare un primo in casa e basta l'ora di pranzo la cena un attimino ci sbizzarriamo un attimino un po' di più serenamente ecco senza grandi bottate giovedì giovedì lenticchie allora lenticchie possono essere ceci possono essere fagioli possono essere noi piacciono molto le lenticchie quindi una volta a settimana io le faccio e anche due volte a settimana però qui diciamo ho cercato di mantenermi tranquilla non ho fatto il doppio delle cose per fare un menù un attimino misto un po per tutti la sera frittata o con insalata o con verdura o con non lo so addirittura anche la frittata con gli spinaci potrebbe essere un'alternativa quindi comunque è una cosa del genere va benissimo cioè a pranzo la lenticchia contiene ferro fa benissimo la lenticchia preferisco sempre farla a pranzo perché un po più pesante no e la sera una frittata tranquilla che può essere fatta anche semplicemente con albume non necessariamente con l'uovo quindi con il rosso quindi un'insalata con la frittata tranquillamente venerdì uno venerdì può decidere di fare pesce tranquillamente può decidere di fare essendo l'ultimo giorno della settimana può decidere di fare un passo un attimino un po più io ho contato carbonara carbonara mentre a cena un'altra volta fettine che poi uno può vedere può essere hamburger può essere cosa so a fettina bianca la fettina rossa cioè quello che è la fettina con più verdure il sabato ecco diciamo che rimango un attimino un po più sostenuta nel pranzo una bella tagliatella e non ce la toglie nessuno e di solito se faccio la tagliatella ci faccio anche le polpette più polpette quindi macinato mentre la sera solitamente pizza faccio la pizza la compro la faccio o prendo quella surgelata o la compro vado in pizzeria mi prendo una bella pizza e la domenica segniamo lasagna però può essere qualsiasi cosa io metto lasagna come pasto un attimino un po più elaborato che ci si perde tempo o bianca o rossa una lasagna e la sera invece faccio faccio un gatto di patate oppure cosa so scrivo patate dipende dal turno che michele fa tendo sempre la domenica sera a fare un pasto in base al turno di michele ossia se michele fa il turno la mattina la sera della domenica non faccio una scena pesante perché michi poi la mattina si sveglia alle tre e mezza e quindi se io do un mattone questo è ci costruisce gli edifici le case palazzi non è quindi posso fare patate con una fettina oppure un'altra volta pesce oppure qualsiasi cosa che praticamente rimane un po più leggera anche una minestra a volte è capitato fare il brodo a pranzo per dire tortellini in brodo e la sera rifarci una minestra può capitare ecco può capitare torno a ripetere questa è diciamo un menù molto leggero proprio leggero senza fare grandi grandi cose per mettere d'accordo un po tutti perché poi io sono un tipo che fa le pizze salate sono un tipo che fa le pizze anche durante la settimana due volte la pizza però fare un menù che andava bene solo per me non poteva andar bene diciamo per tutti quindi ho fatto un menù che poteva un attimino mettere d'accordo un po tutti i gusti ecco dopo uno se lo gira come meglio crede questo è il mio la mia settimana questo è quello che io andrò a fare durante la mia settimana e farò la spesa in base a ciò che devo comprare quindi non c'è una spesa extra non c'è più un mettere da parte come poteva essere un attimino sotto pandemia mettere da parte perché se si usciva una volta ogni 20 giorni questa è una spesa tranquilla il più delle volte compro le cose doppie in modo tale che alcune le ho anche la settimana successiva e quindi non mi serve fare più spesa o faccio meno spesa come avete visto video un attimino un po più di radati di spesa perché prendendo a volte in più da una parte poi la settimana successiva mi destreggio un attimino è finito quindi spero che il video vi sia stato utile che sia stato un confronto più che altro aspetto i vostri menù settimanali sotto al video vi mando un bacio a presto vi voglio bene ciao ciao